Il 14 e 15 maggio si rinnovano i consigli comunali, queste le liste. A Guardavalle, per la lista trasparenza e partecipazione, candidato a sindaco Giuseppe Caristo, consiglieri Campagna Angelo, Chiera Ilario, Lanza Elvira, Menniti Chiara, Menniti Teresa, Origlia Domenico, Peronace Pasquale, Prestia Francesco, Randazzo Agazio, Squillaciotti Paolo, Tedesco Antonia, Ussia Giuseppe. La seconda lista, patto civico per Guardavalle, candidato a sindaco Antonio Purri, consiglieri Belmonte Maurizio, Care Cosimo, Chiera Giuseppe, Galati Maria Teresa, Galati Pierluigi, Lucifero Nicola, Montepaone Francesco, Passarelli Vincenzo, Pizzi Domenico Antonio, Surace Daniela, Tedesco Antonio e Tropeano Antonio. A Santa Caterina una lista, il faro, con candidato a sindaco Francesco Severino, i consiglieri Leto Vincenzo, Carnovalle Federica, Criniti Maria, Benvenuto Francesco, Roda Michele, Dolce Raffaele, Ussia Immacolata, Aversa Vincenzo, Schipani Franco e Lanciano Cosimo. Grazie. 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 Grazie.